Un ciao a tutti voi da Rosy e da Rianna, ciao a tutti! Benvenuti a questo appuntamento con la nostra elettrina dell'auto in compagnia del gruppo Serratore. Gruppo perché? Perché è veramente un grande gruppo a vostra disposizione, ben sette sedi che andremo a vedere poi nel corso della trasmissione. Noi in questo momento ci troviamo nella sede che trovate a Grandate in via Monviso al numero 1. Qui troverete tutte le vetture del marchio Fiat, Alfa, Lancia, Fiat Professional, quindi veicoli commerciali di casa Fiat, Abarth, quindi con personalizzazioni e naturalmente le vetture della gamma Abarth ed inoltre troverete anche Jeep Service, cioè il gruppo Serratore è anche Jeep Service. Questo vuol dire avere officina di assistenza naturalmente per tutti i marchi che vi ho elencato fino a pochi minuti fa e naturalmente anche avere il Service per quanto riguarda la vostra vettura Jeep. Io vi invito a venire qui personalmente, avrete l'opportunità di provare su strada tutta la gamma delle vetture che abbiamo elencato, avete all'esterno anche un ampio parcheggio ma soprattutto avete anche un'esposizione di vetture d'occasione, per cui veramente vi invito a venire qui a seguire questa puntata perché vedrete i vari punti vendita e quindi potrete andare in quello più vicino a casa vostra, giusto? Quindi davvero dal gruppo Serratore potete trovare auto nuove usate, chilometri zero e insomma ad occasione. Tutto quello che volete lo potete trovare qui nella sede di Grandate ma anche in tutte le altre sedi che vediamo subito? Assolutamente sì. Cominciamo con la prima. Ci troviamo in questo momento nella sede del gruppo Serratore che troverete a Erba. Erba in via Prealpi al numero 4, come vedete sono circondate da queste splendide vetture di casa Peugeot, infatti qui trovate sia il marchio Peugeot sia il marchio Lancia. Troverete per quanto riguarda la gamma Peugeot tutta la gamma esposta, quindi potrete venire a vederla, chiedere eventualmente le promozioni, perché no provare anche su strada le vetture. Quindi dalla piccola 108, la City Car, fino ad arrivare al monovolume il 5008. Vi invito naturalmente a venire a parlare con i collaboratori per avere l'opportunità di conoscere queste vetture e conoscere naturalmente le promozioni che sono in corso in questo momento. Arrivare qui è molto semplice, prendete nota del numero di telefono, prendete nota dell'indirizzo, trovate anche un ampio comodo parcheggio a vostra disposizione, troverete naturalmente anche una serie di vetture d'occasione selezionate per voi. Per cui ricordate, fa parte del gruppo Serratore anche la concessionaria Peugeot e Lancia che trovate a Erba, in via Prealpi, al numero 4. Ed eccoci, ci siamo spostati nella bellissima, grandissima sede di Erba, gruppo Serratore sempre naturalmente, in via Milano al numero 7 barra A. Qui davvero potete trovare tantissimi marchi, partendo dal marchio Fiat, anzi ricordo subito che qui potete venire assolutamente a provare questa grande novità che è la 500X e poi Alfa Romeo lancia Abarth e poi ancora Fiat Professional, quindi veicoli commerciali, insomma tutti questi marchi, ma ho nominato Abarth e per questo c'è Claudio. Ciao Claudio! Buonasera a tutti da parte mia. Allora parliamo subito di questa novità. Sei responsabile di Abarth, quindi a te la parola. Grazie. Sì, questo mese lanciamo la nuova 695 Biposto, che è la vettura a trazione anteriore più veloce di sempre, con un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,9 secondi. 695 Biposto che come tutte le Abarth dà la possibilità al cliente di personalizzarla con diversi kit. Abbiamo per esempio il kit cambio, che dà un cambio in estri frontali, piuttosto che un kit carbonio per alleggerire la vettura e arrivare a un peso di soli 990 kg. E un kit pista, kit pista, che serve per chi vuole utilizzare la vettura, come diceva Carl Abarth, il lunedì in ufficio e la domenica in pista, e divertirsi un po' appunto con questa vettura molto prestazionale. Abarth ha anche 500 e 500 cabrio, che si presentano con due tipi di allestimenti. Uno custom e turismo. Custom che ha 135 cavalli, mentre il turismo 160. Per scoprire di più del mondo Abarth, vi invitiamo nelle nostre sedie ad effettuare dei test drive con dei nostri collaudatori. Allora sì Claudio, ti ringrazio. Mi raccomando, tutti gli amici sono invitati a provare queste fantastiche autovetture. E io vi ricordo che qui c'è una fantastica officina, con un magazzino ricambi per tutte le marche che vi ho elencato prima, e poi essendo il gruppo serratore Jeep Service potete trovare anche qui naturalmente in officina, magazzino e accessorio originale proprio delle vostre autovetture Jeep. E adesso passiamo alla prossima sede. Il gruppo serratore vi invita a visitare il proprio stand 650 metri quadri a vostra disposizione alla Brianza Motor Show, sabato 7 e domenica 8. Avrete l'opportunità di vedere tutte le vetture di tutti i marchi rappresentati, avrete l'opportunità di fare dei test drive su queste vetture ed inoltre domenica 8 marzo ci sarà anche il raduno delle Abarth, per cui potete vedere delle vetture davvero molto molto particolari. Ricordate Padiglione B, Stand 9B, Lario Fiere a Erba. Fa parte del gruppo serratore anche uno splendido Outlet. Outlet significa avere prezzi straordinari, prezzi scontati, in questo caso prezzi scontati su vetture a chilometri zero e vetture d'occasione. Vi faccio solo qualche esempio, ma prima vi ricordo dove ci troviamo. A Pescate, in via Roma, al numero 23, per cui prendete nota di questo indirizzo, prendete nota del numero di telefono se volete venire poi a vedere personalmente queste splendide vetture proposte a chilometri zero. Per esempio Fiat 500, sia nelle versioni Popstar, sia nelle versioni Lounge, sia nella versione S, parliamo di 500, 1.2 di cilindrata. chilometri zero, ripeto, prezzi a partire da 11.600 euro. Per quanto riguarda 500, anche la versione L, quindi una vettura praticamente introvabile. Qui la trovate, la trovate a chilometri zero, nella versione 1.3 Multijet, sicuramente una delle più richieste, con prezzi a partire da 18.200 euro. Per quanto riguarda il gruppo Fiat, proseguiamo con Panda. Anche nel caso di Panda trovate la versione 1.2 negli allestimenti Pop, Easy o Lounge, sempre vetture a chilometri zero, con prezzi a partire da 10.200 euro. Naturalmente ci sono diversi allestimenti, come avete visto, diversi colori a vostra disposizione. Proseguiamo, sempre rimanendo in Panda, in questo caso la versione 4x4, per cui 4 ruote motrici, 1.3 Multijet, da 16.000 euro. In casa Lancia troviamo Y1.2 nell'allestimento Silver a 10.500 euro, parliamo sempre ricordo di vetture a chilometri zero. E sempre per rimanere in casa Lancia, anche la possibilità di trovare Delta. Lancia Delta 1.6 Multijet nella versione Gold, allestimento Gold, a 21.000 euro. E in fine, in Alfa, ma vi sto facendo solo qualche esempio, perché tante altre vetture le trovate personalmente qui a Pescate, Giulietta 1.6 JTD 105 cavalli, nell'allestimento Distinctive, a partire da 22.000 euro. Per cui davvero, se state cercando una vettura a chilometri zero, una vettura d'occasione con un prezzo da outlet, ricordate, Via Roma 23 a Pescate, gruppo Serratore. Ed eccoci in un'altra sede ancora del gruppo Serratore, vi ricordo che sono in tutto sette sedi. Noi siamo ora a Lecco, in Corso Filiberto al numero 10, insomma anche qui potete trovare davvero tantissimi marchi, a partire da Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e poi Fiat Professional, ovvero veicoli commerciali, e poi Jeep Service. Io vi rinnovo l'invito, anzi la state vedendo nelle immagini, 500X davvero bellissima e nuovissima, vi invito davvero a venirla a vedere ma anche a provare. E allora, 500X ha un cuore grande, un'ampia gamma di motori performanti che garantiscono prestazione ai vertici della categoria e agilità in ogni situazione di guida. Venite qui in concessionaria per vedere anche i vari allestimenti. Abbiamo 500X City Look Pop e poi ancora 500X City Look Pop Star e poi City Look Lounge 500X Off-Road Look Cross e poi 500X Off-Road Look Cross Plus. E allora davvero 500X è qui a vostra disposizione, il gruppo seratore vi aspetta. Vi aspettiamo anche per scoprire le due grandi novità in casa Alfa Romeo. Vedete qui la bellissima Giulietta Sprint, tutta rifinita, davvero un look nuovo, con rifiniture in titanio, carbon look all'interno e poi sedili sportivi, cuciture rose davvero stupende, minigonne super sportive, per poi passare a Mito, Mito Junior con specchietti e cerchi bianchi, cerchi 17 pollici e anche qui un interno davvero stupendo, tutto da scoprire. E allora davvero vi aspettiamo qui a Lecco e ora passiamo a un'altra sede. Bene, ed eccoci arrivati in un altro dei punti vendita del gruppo serratore. Ci troviamo a Cantù in via Genevrina da Fossano al numero 42, concessionaria Peugeot e service Fiat Alfa e Lancia. Qui troverete tutta la gamma a vostra disposizione, comprese naturalmente le bellissime novità, cioè l'opportunità di avere una macchina diesel ibrida, quindi con alimentazione diesel e elettrica. Ed è veramente una novità. Questa la trovate sul modello 3008 e sul modello 508, ma naturalmente trovate tutto il resto della gamma a vostra completa disposizione per essere anche provato su strada. Fra l'altro in questo momento c'è anche l'opportunità di acquistare qualunque vettura della gamma Peugeot con iMove, una nuova formula per l'acquisto della vostra auto. Cioè darete un piccolo anticipo, un costo mensile di guida e un valore futuro garantito che conoscete già. Al termine del finanziamento potrete scegliere liberamente tra tre opzioni, cioè sostituire l'auto con una nuova, tenere l'auto e saldare il valore futuro garantito oppure restituire l'auto. Quindi veramente un'ottima opportunità per voi. Vi invito a venire, prendete nota a questo proposito del numero di telefono e dell'indirizzo in sovraimpressione, venite a parlare con i collaboratori del gruppo sterratore concessionario a Peugeot, in questo caso appunto a Cantù, e chiedete informazioni anche per questa opportunità di acquisto. Quindi iMove per avere a vostra disposizione una vettura Peugeot con un minimo anticipo e una minima rata mensile. Ed ora andiamo a concludere questa bella trasmissione con il centro dell'usato del gruppo sterratore ad Albavilla. Bene Arianna, abbiamo passeggiato tra le varie sedi del gruppo sterratore e completano queste sedi il centro dell'usato che troverete per voi ad Albavilla. Albavilla in via Montebolettone al numero 23. È veramente comodo da raggiungere e troverete tantissime vetture d'occasione, ma veramente tante, come potete vedere anche da queste panoramiche e dalle vetture che ci circondano. Io direi senz'altro di andare a vederne qualche esempio. Andiamo! Alfa Romeo Mito 1.4 Multi Air Distinctive 105 CV, grigio Antracite del 2011, cerchi in lega, fendi nebbia, start and stop, radio CD MP3, USB, finestrini elettrici, specchi elettrici, 5 posti, Bluetooth, clima manuale e DNA a 8.800 euro. Lancia Delta 1.8 Turbo Hard Black, nero opaco, del 2010, fendi nebbia, cerchi in lega, sensori parcheggio, tetto apribile, panoramico, Bluetooth, volante con comandi, radio, finestrini elettrici, specchi elettrici, climatizzatore automatico B-Zona, presa USB, navigatore, cambio automatico sequenziale, cruise control, interni in pelle, Alcantara, ESP. Fiat Panda Cross 1.3 Multi Jet, colore bronzo del 2010, cerchi in lega, barre portatutto al tetto, fasce paracolpi, fendi nebbia, fari profondità, finestrini elettrici, specchietti elettrici, radio CD, clima automatico, comandi radio volante e LD, blocco differenziale posteriore a 11.000 euro. E poi Peugeot 107.000 Sweet Ears, tre porte, il colore rosso del 2011, aria condizionata, finestrini elettrici, radio CD a 5.500 euro. Volkswagen Golf 1.6 Comfort Line, tre porte, il colore argento del 2005, cerchi in lega, finestrini elettrici, specchietti elettrici, radio CD, aria condizionata manuale, ESP a 5.800 euro. Peugeot 208 Active 1.4 Benzina, tre porte, grigio scuro del 2013, fendi nebbia, cerchi in lega, aria condizionata manuale, radio CD, USB, caricatore CD, navigatore, finestrini elettrici, specchietti elettrici, cruise control, ESP, bracciolo, comandi, radio volante, Bluetooth a 12.000 euro. Lancia Musa 1.4 Benzina, oro, plus, il colore grigio scuro del 2009, cerchi in lega, fendi nebbia, finestrini elettrici, clima automatico, ASR e radio CD a 7.500 euro. Peugeot 2008 1.2 Benzina Active, il colore nero del 2014, 14.800 chilometri, barre tetto, fendi nebbia, finestrini elettrici, specchietti elettrici ribaltabili, sensori parcheggio posteriori, comandi, radio al volante, Bluetooth, radio USB, ESP a 13.800 euro. Fiat 500L 1.3 Multijet, 85 cavalli, Popstar, nero metallizzato del 2014, chilometri zero, cerchi in lega, fendi nebbia, fasce paracolpi, specchietti elettrici, comandi radio al volante, Bluetooth, clima manuale, radio digitale, USB, cruise control, ASR e start and stop a 18.200 euro. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, allora avete visto le sette sedie del gruppo Seratori, mi raccomando vi aspettiamo per l'acquisto della vostra autovettura nuova oppure usata. Un saluto a tutti da parte mia e da Rosi, ciao, alla prossima!